Assolutamente, ovviamente ritengo che il calcio, appunto come ho detto prima, sia un grandissimo veicolo per trasportare informazioni. Si parte dai piccoli gesti e quindi da una responsabilità civica più importante da parte di ognuno di noi. Credo che le persone in questo momento non possono cambiare le cose, ma tanti piccoli gesti possano fare la differenza in un futuro immediato. Io cerco, quando me lo permette la mia attività sportiva, di non utilizzare assolutamente la macchina proprio per questo motivo. Faccio ormai da tantissimi anni la raccolta differenziata. Io ritengo che la Honda Verde abbia colpito anche il calcio, così come è noto che ci sono sempre più iniziative come adesso Life Take All. Poter fare il nostro piccolo gesto per poter contribuire concretamente a quello che è la risoluzione, speriamo, di un problema.